Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, venerdì 21 aprile. Che cosa è successo lo sapete ormai tutti, perché dalle 21 di ieri sera non si fa che parlare di questo attentato che in realtà poi ha una dinamica diversa rispetto alle ultime, anche se c'è un luogo comune in questi attacchi alla polizia. Quello che è successo è che un fondamentalista islamico di origine belga, ma che è residente in Francia, si è presentato con la sua Audi 80 a Champs-Élysées, cioè nella via forse più significativa e più importante d'Europa, certamente di Francia, davanti a Marks & Spencer che è un grande supermercato e dall'altra parte un grande magazzino e dall'altra parte davanti a Zara, cioè nella strada che ogni giorno viene percorsa da circa 300 mila persone, cioè stiamo parlando di una roba senza senso, non ogni giorno, nell'anno viene frequentata, forse una delle strade più frequentate d'Europa, si presenta indisturbato ovviamente in questa strada, scende dalla sua macchina, dalla sua Audi 80, dalla sua vecchia macchina, imbraccia il Kalashnikov e inizia a sparare contro la camionetta della gendarmerie che c'è ogni 200 metri in quella strada. Devo dire che io ci sono stato esattamente, come forse qualcuno di voi sa, una settimana fa, esattamente in un albergo in quella strada, vicino a quella strada, vicino all'Arco di Trionfo e quello è un luogo a Parigi in cui non c'è un metro quadro, praticamente non c'è un angolo senza un poliziotto, senza un uomo della sicurezza con fucile imbracciato o con pistola nella fondina. Insomma è una delle zone più militarizzate d'Europa, molto più di quanto si può vedere nelle nostre città di Milano e di Roma, c'è una quantità di polizia inimmaginabile in quelle zone. Quello che è avvenuto ieri alle 21 di sera è quindi un attacco deliberato contro la polizia. Qualche considerazione si può fare perché, come sempre, è necessario farla. La prima considerazione è che questo signore aveva la cosiddetta Fish S, che è una schedatura che fanno, dal 1970 circa, i servizi di sicurezza francesi nei confronti di coloro che sono particolarmente pericolosi. In realtà sono schedati con questa Fish S 400.000 persone, quindi insomma è una roba totalmente inutile schedare 400.000 persone perché non sono controllabili 400.000 persone, cioè è utile ai fini del racconto a posteriori di quello che hanno fatto, ma come prevenzione schedare 400.000 persone soltanto in un incubo di Orwell possiamo pensare di controllarle. Oggi Repubblica ci racconta esattamente nei dettagli cosa voglia dire questa Fish S perché dice che ci sono vari tipi di schedatura. Quelle in cui faceva parte l'attentatore di ieri sera erano 20.000 persone, ma anche quello è un numero senza controllo. Anche perché, su tutti i giornali di oggi, mi sembra che il Corriere lo metta in grande evidenza, questo signore su Telegram, che è uno dei social, è come Whatsapp, è un sistema di messaggistica, evidentemente in qualche comunità, perché di Telegram in realtà è come messaggi, io mando un messaggio a Tizio, Tizio lo manda a Caio, cioè sono messaggi individuali, però ci sono anche dei gruppi su Telegram, così come ci sono dei gruppi su Whatsapp, avrebbe scritto su Telegram che era il momento di colpire e soprattutto di ammazzare dei poliziotti. Allora mi chiedo se c'è una Fish, se c'è un controllo, se c'è una schedatura e c'è anche una sua rivendicazione preventiva, insomma qualche dubbio me lo pongo sul tipo di controllo preventivo che si può fare in un paese a tre giorni dalle elezioni in cui uno che è già sotto controllo si mette a scrivere che avrebbe fatto un attentato. Vedete è molto difficile fare queste considerazioni ex post, perché soltanto tre giorni fa la polizia francese ha arrestato due marsigliesi che erano pronti a fare un attentato, cioè è molto più rilevante purtroppo l'attentato con due morti, con un morto come avvenuto ieri, che degli attentati sventati come quello che è successo due giorni fa e che avrebbero potuto portare la morte di centinaia di persone. Insomma è molto difficile dirlo. Certo quello che è chiaro è che c'è una insicurezza totale in Francia che nasce in un brodo di cultura per la quale può nascere un pazzo che si mette a sparare con un kalashnikov a dei poliziotti nel centro della città. Ecco, questo è il grande tema. E questo grande tema permettete di ampliarlo un pochino, perché oggi sui giornali questo non c'è, quello che c'è sui giornali è ad esempio Repubblica, altri giornali dicono adesso questo influirà sulle elezioni e darà una mano alle penne. E questo si vede come un effetto tragico di quello che è avvenuto, cioè di un effetto quasi, come possiamo dire, perverso di quello che è avvenuto. Però io mi dico, sarà pure un effetto perverso di quello che è avvenuto, ma è la corretta reazione che l'opinione pubblica ha dopo vent'anni, che ci hanno spiegato che l'immigrazione incontrollata e che le bollie e che le periferie controllate da persone non integrate siano normali. Non sono normali. In quei centri non c'è il controllo del territorio, in quei centri nascono i pazzi che iniziano ad ammazzare. Quindi quello che dico molto banalmente, invece di occuparsi dei risvolti politici che può avere questo attentato e ridicolizzare quelli che dicono ecco, vedete, il colbonismo abbiamo portato agli attentatori il cui collegamento forse non è così stretto, ma esiste, bisognerebbe forse, noi che ancora non abbiamo quei ghetti, almeno in quella misura diffusi, perché in Italia ce ne sono i ghetti, cercare di capire come evitare di crearli in un paese come quello dell'Italia che continua ad accogliere centinaia di migliaia di persone ogni anno non ponendosi il problema che fra dieci anni, fra quindici anni o forse purtroppo prima ci porremo lo stesso problema che oggi si pongono i francesi, che non è il terrorismo islamico, ma è la possibilità che il terrorismo del singolo pazzo islamico fondamentalista, bene, possa avere un territorio favorevole visto che lo Stato non riesce più a controllarlo. Non so se è stato chiaro, questo oggi sui giornali non l'ho letto. Molto interessante dunque tutte le interviste sociologiche sulla possibile vittoria della Le Pen, io mi interrogherei non tanto sul fatto che la Le Pen vinca o perda perché c'è questo che fa il terrorismo, ma perché sono state create le condizioni per cui i pezzi del territorio non sono controllabili e questo è il punto fondamentale che mi sembra i grandi intellettuali non hanno mai il coraggio di dire. Altre due cose molto veloci, soltanto il giornale oggi titola, non soltanto, ma il giornale oggi fa bene titolare aprendo a tutta pagina un magistrato decide che i cellulari fanno male, ma vi sembra possibile che in tutto il mondo c'è un magistrato eivrea che mette in relazione il tumore con l'utilizzo eccessivo del cellulare, eccessivo di quattro ore al giorno. Allora, posto il fatto che tutti noi avremmo qualche problema serio se questa relazione diventasse scientifica, io trovo una cosa allucinante, allucinante, che sia un magistrato diivrea a decidere che i cellulari fanno arrivare il cancro. Penso che questo valga quanto vale le tesi anti-vaccini, cioè che hanno di scientifico queste cose? Zero! Hanno un pregiudizio, beh, per forza. Questo è il paese delle scie chimiche e dei pregiudizi. Vedrete che questa questione del magistrato avrà un peso e una eco molto superiore a quello che potete immaginare. Terza cosa su cui si esercitano i giornali della Repubblica, soprattutto il fatto quotidiano ovviamente, il fatto che il Consiglio del Ministro abbia tolto alcuni poteri a cantone, che però anche qua, voglio dire, abbiamo attribuito a cantone talmente tanti poteri, talmente tante capacità di intervento e mi sembra che gli stessi che gli hanno attribuiti non sostengono che siano radicalmente diminuiti i casi di corruzione, quindi gli abbiamo dato tanti poteri, ma la corruzione non diminuisce o comunque non sta ancora diminuendo, poi se gli si tolgono un po' di popoletti si urla a un passo indietro e non si pensa che in realtà forse era anche un'anomalia quella di trovare una specie di commissario tuttofare su qualsiasi tipo di intervento pubblico e di appalto pubblico italiano. Non voglio dire nulla contro cantone, voglio semplicemente dire che finalmente bisognerebbe che nella nostra testa intasse un principio molto, diciamo tutti quanti abbiamo la democrazia e siamo tutti fan della democrazia e della sua costruzione, poi dopo però quando la politica cerca un attimo di riprendersi qualche potere legittimamente, che peraltro la stessa politica data a cantone sembra una specie di passo indietro di atteggiamento corruttivo, di mala politica, quando la stessa politica che ha esagerato toglie qualche elemento di autonomia a coloro a cui gliel'ha data, come nel caso del cantone. Oggi voglio fare una segna molto breve, c'è tante cose da fare, vi saluto, vi do appuntamento come sempre a domani. Un abbraccio a tutti voi, ciao!